Con Roger Molina, insomma, la partita perfetta nel primo tempo e io direi stupenda nella ripresa perché nonostante tutto poi siamo venuti fuori. Sì, guarda, abbiamo dimostrato che anche nelle difficoltà questa squadra dimostra che c'è tanto coraggio, che ci crede tanto, che sta tanto unita. Mi piace anche così, quando c'era in partita pensavo meglio vincere 7 a 1, ma ci rimontano la partita 4 a 5 e questa squadra ha dimostrato che come va la stagione e come va questa partita ha il coraggio, ha la passione. Penso che il pubblico l'ha visto, lo abbiamo dimostrato, la squadra lo dimostra ogni settimana che si alena, sono contento per i ragazzi perché solo loro sanno come abbiamo sofferto finora, quanto si è lavorato e non abbiamo raccolti i punti meritati. Sono veramente contento per loro. Una gestione degli uomini ho visto oculata, ci sono stati momenti in cui c'era da spingere, entrava qualcuno, momenti in cui insomma mi è sembrata anche tatticamente fatta molto bene questa gara. Dai, questo alla fine, questo invento funziona così, no? Si vinci e adesso dici che i cambi vanno bene, magari no. Grazie. Tanto un fuori programma graditissimo. Sì, magari il risultato non viene come volevamo, magari si discutono i cambi. Io tutto quello che faccio, tutto quello che penso è dare il massimo rendimento della squadra. Ci sono volte anche che mi sbaglio, ci sono volte che faccio le cose bene, ma tutti stiamo nella stessa barca spingendo perché questo vada bene. Ora siamo in un momento in cui guardiamo anche la classifica e cerchiamo di migliorare, ma siamo in un posto più vicino da quello che vogliamo stare. La squadra sta costruita per vincere, lo sappiamo, non moleremo. Adesso pensiamo già a Barcellona da domani, oggi goderemo questa vittoria, ma non ci si ferma qua. Barcellona, hai detto, l'hai nominata tu, insomma è gara importante, è una pista importante contro una squadra importante. Sì, non ci nascondiamo che Barcellona è una delle favorite per vincere tutto, sempre. Ha una storia stupenda, è una squadra con i migliori giocatori al mondo, ma noi non andiamo lì di vacanze. Andiamo a cercare di metterli in problemi col gioco, lo studieremo, ci lavoreremo tanto. Abbiamo tre giorni per preparare questa partita e andremo lì con l'idea di vincere per stare su nel gruppo e passare il turno, quello che vogliamo.